Quali sono i prodotti della Puglia Lifestyle? I prodotti della Puglia Lifestyle sono prodotti innanzitutto della nostra terra, del nostro comprensorio, prodotti di alta qualità e prodotti ricercati, molto ricercati, di aziende che hanno uno standard qualitativo molto ma molto alto. Non a caso la nostra scelta nella selezione dei prodotti ricade principalmente sui prodotti biologici e non, ma certificati. Il nostro obiettivo non è quello di fare scuola di cucina, ma lanciare un messaggio alle famiglie innanzitutto nell'alimentazione salutare, salutistica, o meglio, cioè nutrirci mangiando bene. Cioè mangiando prodotti di qualità, di ottima qualità, ma più che altro del nostro territorio, in quanto è un territorio che ci offre la possibilità, ma una grande possibilità, in quanto abbiamo una regione ricca di prodotti, sia agricoli, sia latto caseari, sia il pesce, sia la carne. Quindi una regione ricca veramente di prodotti e di biodiversità. Non dobbiamo rinunciare a nulla, alla carne, alla pasta? Io dico sempre che dobbiamo mangiare tutto, ma nelle giuste misure e nelle giuste quantità. Gli eccessi in tutte le cose, secondo me, fanno male, anche con il cibo. Gli eccessi della carne fanno male, gli eccessi del pesce fanno male, ma non stiamo qui a giudicare, non siamo medici, ma possiamo lanciare il messaggio, mangiare tutto, nelle giuste misure e nelle giuste quantità. Questo è il succo, in sostanza, del nostro messaggio che vogliamo lanciare.